Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo, situazione per martedì con un live cedimento dell'anticiclone al centro nord Italia e sulla Sardegna e l'arrivo del maestrale che farà calare un po' le temperature sia minime che massime. Andiamo a vedere quindi quello che succederà perché sarà una giornata abbastanza buona al nord con un sensibile miglioramento del tempo mentre qualche piovasco breve temporale tra la mattinata e il pomeriggio si formeranno sulle regioni centrali tra Appennino e Medio Adriatico. All'estremo sud invece ancora l'anticiclone africano e gran caldo ma qui il maestrale giungerà nel corso di mercoledì venti quindi attesi da ovest e nord ovest ed un calo delle temperature. Tutti i dettagli precisi li trovate scaricando l'appo gratuita di Trabi Meteo.